Ciao ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi da come avete ben capito dal titolo e da qua dalla roba che c'ho davanti farò una challenge mangio per un giorno solo verde iniziamo subito con la colazione e mangiamo questo che cos'è questo Giana? è uno yogurt con al pistacchio con una parte mandorle che io non mangerò no le mangi tanto poi messa nello yogurt viene tutto verde e poi insieme alle mandorle ma però le mandorle erano un po troppo giocherate ci vediamo dopo per il pranzo ciao io adesso vado a pagliare il broccolo che puoi mangiarlo a pranzo no è ora di pranzo e mangerò sti tortellini agli spinaci mi sembra che sono bellissimi agli spinaci e li accompagnerò per no 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 adesso è l'ora di far cena e vado a preparare l'insalata adesso arrivo alla mamma e porto l'insalata insieme ad un avocado moda qui in poi fai adesso si ripadi Sì, sì, sì. 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 E' l'ora della cena, da come avete visto prima che l'ho preparata, e si mangia la pasta al pesto, insieme all'insalata e la frittata di spinaci. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. La cena, la challenge è conclusa. Secondo voi ho superato, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina. Ciao. 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 Ciao.